Una frase del presidente Vigorito lo disse in un'annata non facile, la retrocessione dalla B alla C, disse Si può cadere, conta rialzarsi. Penso all'errore iniziale, penso alla parata di dopo. Non conta cadere, basta rialzarsi. Tu hai avuto la freddezza, la lucidità di restare in partita. Sì, dopo l'errore che ho fatto il primo tempo, appena abbiamo preso il gol tutti quanti mi sono venuti ad ornamano a incoraggiarmi. E anche ho sentito lo stadio che applaudiva. Sono stato coccolo alla squadra e dal pubblico e quando si fa un errore devi sempre cercare di rialzarti per non commettere altri e portare al termine la gara. Un portiere dalle parate difficili, perché poi paradossalmente era più complicata quella che è fatta dopo che non la prima. Quindi evidentemente, quando la tensione si alza, ti alzi anche tu. Sì, è inevitabile che era più difficile la seconda parata della prima, perché era un tiro di facile lettura che purtroppo ho letto male, può capitare. Ero già sceso su un lato per bloccare la palla e all'ultimo ha cambiato direzione. Allora, sì, il mister è appena finito il primo tempo, è venuto vicino a me, mi ha rincuorato, ho detto tranquillo, riazzera tutto, può capitare. C'è il secondo tempo per riscattarti e ho fatto un discreto secondo tempo. Io mi ispiro a Donnarumma che mi piace molto come portiere, cerco di guardarlo sempre con gli occhi ben aperti per rubargli qualcosa. Sì, appena sento tutto il pubblico applaudire, ci ho sentito meglio, ho pensato tra me e me, è andata, ora abbiamo più o meno 70 minuti per riaprire la partita e per vincerla. Ho cercato la concentrazione e ovviamente avere dei tifosi così calorosi che ti danno una spinta dal primo all'ultimo minuto sicuramente gioca al nostro vantaggio. Dalla panchina si notava almeno l'anno scorso, però dai le squadre non sono di un livello basso, ci sono squadre come la Juve molto forti anche impostare dal basso perché oggi mi hanno sorpreso, non buttavano mai palla avanti, cercavano sempre il fraseggio e l'anno scorso si notava di meno. Una vittoria importante dopo una sconfitta, quella di Monopoli, una vittoria del gruppo perché ecco la cosa che mi ha colpito, parliamo spesso di questa sorta di, non voglio dire dualismo, ma giovani e veterani. Sembra un po' invece che questo gruppo ci abbia un'anima, si sia già fuso con l'insieme, non c'è una leadership ma c'è un solo gruppo. Sì, il gruppo è molto unito ma da subito, dal primo giorno di ritiro si vedeva che il gruppo era ben formato, non c'è uno che vuole prevalere sull'altro, siamo tutti quanti, siamo un mix di ragazzi e veterani che secondo me hanno trovato il giusto equilibrio e in campo dai si nota perché abbiamo fatto 15 gol se non ho sbaglio.